Una interessante mostra in corso di svolgimento al Centro Congressi di Marconi, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima dei Miracoli, patrona di Alcamo. Una mostra dedicata al suore di clausura, curata dal bravo fotografo Enzo Adragna. Ebbene, come nasce questa iniziativa? Questa iniziativa nasce dal fatto di avere conosciuto queste suore e mi hanno ispirato, come si dice, quando tu incontri una stessa empatia e quindi incuriosito un poco dalla loro vita dietro le sbarre rigide, giustamente. Piano piano mi sono accorto invece che non è come pensiamo noi, cioè noi siamo abituati a pensare alle suore di clausura come delle persone che si estraniano dal mondo per isolarsi e stare tranquilli. Invece col passare il tempo mi sono accorto che la loro vita intanto è più intensa della nostra e fanno sacrifici che noi neanche ci immaginiamo, come può essere l'alimentazione, perché visto che hanno fatto una scelta di vita sulla povertà, hanno grossissime difficoltà, vivono esclusivamente delle offerte. Invece quello che mi ha stupito è che nonostante queste loro privazioni e cose trasmettono una serenità bellissima, non ci sono persone che entrano a contatto con loro e non rimangono meravigliati. Questa mostra fino a quando si potrà visitare? La mostra è stata aperta dal giorno 17 e durerà fino al 27 di giugno insieme alle opere di Vito che con il suo colore riesce a dare uno stimolo all'interesse, alla sacralità del momento. Tante le manifestazioni oggi, 20 giugno, secondo giorno dei festeggiamenti in onore della Madonna, in mattinata il giro per alcune strade principali del premiato complesso bandistico città di Alcamo, mentre stamane il cantastorio racconta Patacca e Marie Marie a cura della Proloco ha intrattenuto i bambini sul sagrato della Basilica di Santa Maria Assunta. Abbracciando il golfo alle 17 e 30, andando per Santuari del Golfo di Castellammare, si tratta della presentazione del libro edito dal GAL Golfo di Castellammare in programma nella Chiesa Madre. Alle 19 e 30, uno degli eventi più importanti che fanno parte della nostra storia e della nostra tradizione, si tratta della Calata delle Autorità e celebrazione dei primi Vespri in onore di Maria Santissima dei Miracoli, preseduta da sua eminenza Monsignor Antonino Raspanti, 19 e 30, al Santuario della Madonna dei Miracoli. Quello della Calata delle Autorità, come diciamo a me, è un'antica tradizione e proprio il 20 giugno di un anno fa si insediò ufficialmente come sindaco Domenico Surdi. Dalle 18 e 30, le botteghe creative a quelle della Cassandra nel corso 6 aprile. Dalle 18 e 30, dal mio punto di vista, mostra fotografica a quelle dell'Associazione Settimarte, sempre nel corso 6 aprile. Alle 18 e 30, passeggiata storica nel corso stretto a quella dell'Associazione Archeoclub Calatubo, punto d'incontro Piazzetta Vespri. Dalle 19, street food a quella della prologo presso l'altro dei Gesuiti che si trova in Piazza Ciullo. E a seguire l'opera dei pupi in Piazza Ciullo, l'esibizione di percussioni live a Piazza Mercato, la proiezione del film alle 21 dal titolo Piena di Grazia a quella del circolo di cultura cinematografico Segni 9 che si svolgerà nell'altro del castello dei Conti di Modica. Alle 21 al Teatro Cielo d'Alcamo, uno spettacolo canoro dal titolo Magiche Note. Dalle 22, musica live con band e vergente a quella della prologo in Piazza Ciullo. E dalle 22, in contemporanea, gli artisti di strada.